Quando se ne sente parlare c'è sempre un velo di mistero che sembra circondare ogni discorso. A Venezia invece la massoneria ci mette la faccia. L'occasione è stata la visita in Laguna di Luciano Romoli, nuovo gran maestro della Gran Loggia d'Italia liberale e adormatica, arrivato in Laguna per incontrare il veneziano Luigi Danesin, suo predecessore come gran maestro dal 2002 al 2007 e punto di riferimento per tutta la massoneria continentale. Noi non ci nascondiamo quindi non possiamo essere occulti. Noi tutt'appiù potremo essere catalogati tra le persone che esigono una riservatezza, prevista anche dalla nostra Costituzione. Concetti ribaditi anche da Danesin nel suo benvenuto. La massoneria per me è una scuola di vita, è un insegnamento talmente pregnante, talmente che veramente fa cambiare la vita dell'uomo. Venezia, con ben 200 fratelli, circa 600 in Veneto, ha un ruolo centrale nell'obbedienza che conta in Italia poco meno di 10.000 iscritti. La visita del gran maestro è una cosa veramente importante, ma non tanto per la persona che viene, per l'attenzione che il gran maestro, perché il capo della massoneria italiana ha verso la nostra città e quindi è una cosa molto, molto importante. La massoneria non è legata ai tempi e alle situazioni, è legata all'uomo. Io penso che l'uomo del 2020, avendo anche lui cambiato interesse e visioni, rimane sempre l'uomo che ha bisogno di lavorare su se stesso.